In questa foto vediamo l'atto di aiutare. Le parole di bimbi, messaggi, progetti, sogni di un mondo migliore. Così, fogli in mano, colori, forbici, hanno raccontato e disegnato i loro pensieri. I lavori sono stati esposti al Museo Bailo, un'iniziativa a questa voluta e promossa dall'Associazione Ascoltare per Costruire, coinvolte quattro scuole dell'infanzia e sette primarie per un totale di 800 bambini. Alcuni dei progetti dei piccoli verranno realizzati dall'amministrazione comunale di Treviso, i sogni dei bimbi tradotti in realtà. Quest'anno abbiamo da fare una biblioteca sempre legata alla gentilezza. Dobbiamo fare un murales sempre legato alla lotta contro il bullismo e all'amore e alla gentilezza. Poi ci hanno chiesto varie integrazioni di giochi, di gazebi, eccetera, la rete di pallavolo che riusciremo comunque entro l'estate a fare per tutti. Tre temi trattati in questa edizione, uno storico c'era una volta il mio quartiere, uno legato al bullismo, l'altro all'inclusione. I messaggi arrivati dai bambini sono forti e chiari, le parole cardine sono amore e gentilezza, un concorso dove hanno vinto tutti. Lavori non solo realizzati con disegni e costruzioni. Il mondo digitale fa parte della vita dei nostri bambini e quindi è giusto e opportuno che ci sia una condivisione anche di questi strumenti, mantenendo però sempre la manualità e quindi il disegno e l'espressione dei bambini attraverso queste modalità. Poi è chiaro che anche dei messaggi digitali sono al passo con i tempi ed è giusto che i ragazzi e i bambini capiscano che si può usare il digitale anche per trasmettere messaggi positivi. La mostra rimarrà aperta fino al 2 giugno. Il primo giugno l'ingresso sarà gratuito e intanto si pensa già al prossimo anno. Per il prossimo anno intanto una delle idee che poi ci confronteremo col comune è quella di cosa possono lasciare i più grandi, ovvero anche i bambini più grandi, ai più piccoli. Molto interesse e partecipazione da parte di insegnanti e piccoli. Si sono molto applicati sia sul lato grafico, sia sulla parte della ricerca e della proposta, ma anche sul lato della riflessione. Invito infatti a visitare questa mostra non solo alle famiglie ma anche a tutta la cittadinanza perché offre degli spunti di riflessione molto interessanti.